...discutevano arrivatamente sul Tafassi, un piccolissimo polipri si tuffò nelle acque del fiume e dopo aver preso nel pezzo una goccia, una piccola goccia d'acqua, il curante del gran caldo lasciò cadere sopra la foresta e il mato del fiume. La cosa non passò in osservata, e ad un certo punto...